distanziali perché montarli quali tipi di distanziali esistono come montarli vantaggi e svantaggi ragazzi ci troviamo da taurus special tuners ormai lo conoscete vedete che bella location si è trasferito in via cenni 14 a grugliasco sede più nuova più moderna vi faccio vedere qualche immagine molto interessante come sapete da un po di tempo collaboriamo con taurus per parti di ricambio aftermarket se volete anche voi usufruire di un 5 per cento di sconto aggiuntivo sui prodotti quando andate sul sito trovate il link descrizione tra l'altro scrivete psi 5 per un ulteriore sconto qui sotto in descrizione ma adesso torniamo a parlare di distanziali abbiamo detto perché montarli come montare perché dobbiamo montare di distanziali innanzitutto perché fa figo fa figo è vero non c'è niente da dire una ruota bella a filo con i passaruota decisamente a impatto estetico è migliore che un cerchio cambia il fitment il fitment esatto ma non solo ci sono vantaggi anche a livello di guida di manovrabilità di reattività cambia proprio la maneggiavolezza il comportamento dell'auto in curva e soprattutto sa figo fa sempre figo ma a volte uno va a cambiare l'impianto frenante della macchina non mette il lotto pompanti con il disco da 330 maserati slim piuttosto che qual è il problema che poi non ci sta più il cerchio perché la pinza è grossa quindi col distanziale gli diamo quello spazio al cerchio per poter restare dentro la ruota ovviamente adesso poi andiamo a vedere che bisogna essere coerenti anche nell'acquisto dei distanziali perché non ci sono sempre solo pro ma a volte anche contro ma come facciamo a scegliere la misura dei distanziali è importante prendiamo il metro si vediamo anche il metro fondamentalmente cerchiamo di misurare con un righello o qualche cosa la distanza che abbiamo tra la ruota ovviamente ruote dritte non starzate e il passaruota quindi cerchiamo di portarle a filo ovviamente abbiamo anche questa bella macchina da farvi vedere magari anche in un futuro video possiamo vedere un po le chicche che ha io già solo non so se si vede dal video ma ha quattro tromboncini è già una roba interessante ma non è questo il video quali distanziali ci sono sul mercato ragazzi ovviamente abbiamo quelli lì senza flangia senza flangia per degli spessori con questi qua diciamo minimi sì fino al massimo di 6 6 mm tendenzialmente per conservare il centraggio del mozzo esatto e tendenzialmente sono questi qua poi abbiamo quelli con la flangia e qua sono poi anche quelli che tendono a diventare un pochino più spessi quindi sopra i 6 mm fino a un 20 25 fino a 20 a massimo tendenzialmente diciamo uno spessore medio sì sì esatto sono questi qua tanto questi molto belli neri perché adesso come vedete Taurus ci offre non solo quelli classici color metallo ma c'è proprio anche quello nero per chi ha il cerchio nero il mozzo nero insomma che danno anche meno nell'occhio si vede meno e quando ci fermano sempre meglio ma questo lo vediamo nei contro infine c'è l'ultima tipologia no quelli abitati sul mozzo esatto che li vedete proprio qua tra l'altro sono in questo caso ci sono le colonnette i classici a doppia forratura si vengono inseriti dei dadi cioè questi montano direttamente sul mozzo e dei dadi vengono avvitati qua e restano a scomparsa al suo interno dopodiché i dadi quelli stock del cerchio vengono avvitati direttamente sulla colonnetta riportata questo lavoro l'abbiamo fatto già su una mustang bullet 5000 v8 quindi se vi siete persi il video questa volta è meglio lascio qua sopra la mia testa e lo potete andare a vedere interessante perché proprio questa lavorazione poi vedremo anche il montaggio dei distanziali con flangia sulla mia macchina sull'audi quindi anche di una lavorazione più più standard vediamo le accortezze da seguire quindi seguirà un video anche su quello però la diagnosi per spegnere la spia motore sicuramente ecco un altro tipo di distanziale che è questo che logicamente come potete notare hanno degli spessori molto molto importanti hanno la flangiatura per il centraggio centrale e la doppia foratura ma addirittura siccome che le colonnette sarebbero troppo lunghe hanno dei foi filettati e praticamente avviene diventa direttamente un prolungamento del mozzo esatto quindi si possono conservare i bulloni originali in questo modo anche più resistente esatto poi qui come possiamo vedere che sento già che qualcuno sta per dire è mai filettato l'alluminio non tiene no c'è delle boccole in acciaio riportate dalla parte posteriore per quanto riguarda il montaggio del distanziale volevamo parlarne ma facendo il video dedicato sulla mia che uscirà subito dopo questo vediamo lì i passaggi concretamente quindi vediamo perché sembra facile prendi il distanziale lo monti sul mozzo ci sono delle piccole accortezze da seguire importanti vediamo invece che cosa bisogna fare in fase di acquisto e su questo ci verrà sempre in aiuto ovviamente anche taurus possiamo scrivergli dal sito direttamente su facebook come preferite i contatti saranno qua sotto che ci può aiutare anche su questo percorso ma intanto vediamo come fare per scegliere il distanziale corretto bene ma come scegliamo i distanziali per la nostra macchina abbiamo visto come capire lo spessore misurando la ruota fino a farla arrivare a filo ma c'è solo quella misura no abbiamo anche il diametro esterno del distanziale facendo finta che questo fosse il mozzo della macchina e noi andiamo a fissare il distanziale ovviamente potrebbe essere più piccolo deve avere lo stesso diametro andiamo a cercarlo del diametro corretto esterno non deve fare questo deve essere lo stesso diametro un'altra misura che secondo me è fondamentale ovviamente il pdc quindi il numero di bulloni il diametro su cui sono interposti questi bulloni e il centraggio ogni macchina la sua c'è per esempio fiat che ha 4 per 100 mi sembra poi c'è chi ha 5 per 112 alla chiesa cattolica ci sono vari centragi e quindi quello importante chiedere guardate la vostra macchina che cosa se non lo sapete affidatevi a un professionista che vi dice ovviamente la misura del vostro mozzo che è importante quando andiamo a montare un distanziale ovviamente il bullone non può essere della stessa lunghezza perché serve più lungo come facciamo a capire quali bulloni servono e dove trovarli allora ci sono vari kit molti kit questi kit distanziali questi bulloni sono compresi in altri no insomma chiedete a Taurus e lui sa indicare anche il bullone giusto verificate sempre la misura dei vostri bulloni poi a volte ci sono i dadi quindi dipende ovviamente in base a vettura e vettura quindi per questo è importante comunque affidarsi a qualcuno se non siete tanto esperti in questo caso soprattutto non hanno neanche presi dei bulloni troppo lunghi perché cosa succede io molto il distanziale metto il bullone che è tanto lungo mi va oltre il mozzo quindi deve andare dentro e vi può tritare il sensore avs o il tubo dei freni può fare tanti danni la scatola a mano volante tornando a parlare di bulloneria questo è anche importante perché come si vede sempre da queste immagini no non sono tutti uguali c'è chi ha bulloni conici chi ha bulloni classici eccetera semisferici quindi battuta piatta esatto questo è molto importante bisogna anche capire queste misure qua tra l'altro i professionisti tornando al discorso di quanto deve entrare bullone dentro al mozzo consigliano che entri almeno 10 12 mm la filettatura questo per completezza tra l'altro una scheda molto tecnica ci perdonerete se la leggiamo ma due macro gruppi che sono i bulloni da m12 e da m14 esatto che se sono da 1 e 25 il passo 1 e 25 fatevi calcoli se lo avvitate vi fate fare 8 giri logicamente è andato avanti di circa 10 mm di circa 10 mm se invece il passo da 1 e 50 facciamo 10 giri qua dice 6 e mezzo di rotazione quindi 6 e 7 adesso tra 6 e 7 milioni cioè 7 rotazioni tendenzialmente le si fanno sono quelle standard se non fate come come i professionisti prendete il calibro lo misurate e vi rivolgete a taurus lui vi saprà indicare quello giusto ragazzi tra l'altro se volete un discorso più approfondito su bulloneria viti eccetera visto che è un discorso parecchio tecnico e ampio non si può affrontare adesso diametro i filetti passi colonnine colonnette materiali materiali c'è il mondo sferici i bulloni lagnaz piuttosto che i bulloni quelli già postai in alluminio nodizzato quello da chiudere ramati comunque se volete un video così dedicato specifico fatecelo sapere nei commenti noi lo prepariamo e siamo felici di potervi soddisfare è importante montare i distanziali giusti e farlo con consapevolezza perché altrimenti si può arrivare anche a condizioni del genere questo era un distanziale come vedete si non esiste più perché innanzitutto vanno presi dei distanziali di qualità quindi da marchi che conosciamo insomma importanti non cineserie solo per risparmiare perché poi alla fine il risparmio sui distanziali non è neanche così esorbitante io per quanto riguarda sicurezza preferisco che magari spendiamo qualcosina di più ma siamo tranquilli che montiamo un prodotto non si spacca non non ci andiamo a fare male forte e non lo facciamo anche verso anche terzi e non roviniamo la macchina è ancora più importante la sicurezza ok pertanto alla fine sappiamo che è il costo quello che ci interessa di più ma questo era per i pro e contro vediamo i pro e contro vediamo che cosa ci dice i pro ragazzi l'abbiamo già detti quindi l'estetica della macchina migliora sicuramente sì ovviamente poi in realtà lo stesso discorso lo si può fare con un cerchio con un et più basso quindi con un et che sposta il cerchio un po più in fuori ma sono scelte spendere i soldi per quattro cerchi nuovi magari fai anche mille euro con i distanziali la spesa è minore diciamo anche sul 100 euro lo togliamo poi sicuramente la maneggevolezza della macchina migliora e come detto sempre inizio video se abbiamo problemi di spazio per un impianto frenante nuovo eccetera anche quello ci aiuta o anche se cambiamo dei cerchi magari a un et al contrario più grosso quindi più all'interno che mi toccherebbe la pinza col distanziale metto a posto questa sulla mia vecchia subaro aveva risolto così visto ma passiamo ai contro allora innanzitutto sono illegali perché andate a modificare la carreggiata della macchina quindi e qui entra in gioco sempre il solito discorso un po del buon senso no quindi se ho se metto un distanziale come questo è un conto se metto un distanziale come questo e la ruota mi sporge fuori dal parafango fatevo dire se un po un pirla però lasciatemi questa licenza poetica vorrei fare anche una piccola precisazione se voi montate dei cerchi con un et diverso stessa cosa è la stessa cosa tutti pensano che cambiando il cerchio con un et minore logicamente dicono ah ma no i distanziali non sono illegali se è illegale lo stesso poi c'è una certa tolleranza non si nota diciamo si nota anche meno se dovessero fermarti dicono vabbè non c'è il distanziale poi trovi certe macchine in giro che vanno scampanare sembrano dei pitbull nel caso un altro svantaggio è l'usura precoce dei cuscinetti ora sì e no perché magari una una cuffia rotta piuttosto che un l'utilizzo un po malsano un po troppa pista usura lo stesso i cuscinetti diciamo che si tendenzialmente accorcia un pochino la vita del cuscinetto entra in gioco anche il discorso di prima nel senso se aumento di poco è un conto se aumento di tanto le geometrie cambiano e poi è importante anche il fatto del montaggio di montare distanziali uguali sullo stesso semiasse cioè non è che metto di qua 10 di la 20 mi sposto la macchina quindi molto 10 10 dietro posso anche montare 12 16 si possiamo differenziare lì tra gli assi ecco anche se poi la la macchina esce di casa madre con quelle geometrie quindi sarebbe bene mantenerle quindi se metto 12 davanti 12 dietro ma magari voglio cambiare il comportamento della macchina voglio che dietro tenga di più quindi dietro la faccio più larga si può intervenire anche sulle geometrie in questo caso piacimento con consapevolezza magari fatto anche da un professionista esperto del settore importantissimo un grossissimo svantaggio è che diventa rischioso se è mal montato se voi mi prendete questi e il dado che va dietro non lo stringete questa cosa inizia a vibrare la macchina vibra magari si smonta perdete una ruota finita nel campo per quanto riguarda il montaggio ragazzi ve l'ho già detto faremo un video prossima settimana sulla macchina quindi andiamo a vedere proprio tutte le fasi del montaggio precise vediamo anche il test per vedere che non vibri per quello che appena detto per i contro quindi un montaggio mal fatto può portare a piacevoli conseguenze quindi seguiteci lasciate un bel mi piace andate a vedere il link di taurus soprattutto adesso che andiamo in stagione quasi natale possiamo fare anche dei regalini con un po di sconto in più che non fa mai male anche a me anche a me lo voglio anche io esatto se volete fare un regalino pumpa lasciate un bel mi piace condividete e ci vediamo il prossimo lunedì ciao ciao